Riapre la villa comunale di Corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco, dopo i lavori di potatura della scorsa settimana, ecco come si presenta l'area verde alle telecamere di TV City. Gli interventi sono stati disposti dal sindaco Giovanni Palomba, che con apposita ordinanza aveva disposto la chiusura della villa nei giorni scorsi per far fronte a tutte le criticità presenti e consentire gli abituali frequentatori di usufruire dell'area in serenità e sicurezza. Interventi necessari che hanno restituito maggiore decoro alla villa sia in termini di pulizia che di ordine, ma soprattutto per evitare spiacevoli episodi. Due mesi fa infatti si verificò il crollo di un albero al centro di un'aiuola. In particolare sono stati effettuati interventi di potatura e finalizzati al rinnovo delle alberature comunali presenti, come scritto nel provvedimento a firma del primo cittadino, nonché all'abbattimento di alberature pericolose, frantumazione di ceppaglie e piantumazione di nuove alberature in sostituzione di quelle abbattute. Da oggi dunque si potrà nuovamente soffrire dell'area in tranquillità e sicurezza.